500 persone identificate, 300 veicoli controllati, 12 soccorsi stradali effettuati. Questi sono alcuni dei dati che emergono dal bilancio delle attività svolte dagli agenti della Polizia Stradale di Agrigento durante il lungo ponte di Ferragosto. Le 33 pattuglie impiegate nei servizi di vigilanza stradale sono state coordinate dal comandante Giuseppe Andrea Morreale. Le pantere della Polizia hanno battuto palmo a palmo le principali arterie stradali della provincia, con particolare attenzione posta lungo la strada statale 115 nei tratti compresi tra Porto Embeducle e Siculiana, Ribera e Sciacca e Palma di Montechiaro e Licata. Complessivamente sono stati elevati 55 verbali per violazione delle norme del Codice della strada, più della metà per il superamento dei limiti di velocità. Tra gli altri illegiti rilevati, anche la guida senza cinture di sicurezza. In totale sono stati 43 i punti decurtati. Per quanto concerne gli illegiti connessi alla inefficienza e insicurezza dei veicoli, le modifiche accertate alle caratteristiche costruttive dei veicoli sono stati 8 le infrazioni riscontrate che hanno portato a ritiro di 5 carte di circolazione. Per contrastare il triste fenomeno della guida in stato di ebrezza alcolica, sono stati controllati con etilometro e percursore 182 conducenti, uno dei quali è risultato ubriaco. Durante i controlli i poliziotti hanno anche arrestato un giovane extracomunitario sottoposto a obbligo di dimora nel comune di Aragona. L'immigrato è stato fermato in territorio di agrigento a bordo di un ciclomotore con targa rubata e senza assicurazione. Il giovane, che non aveva mai conseguito la patente di guida, è stato segnalato anche per aver fornito generalità false agli agenti. Il mezzo a due ruote su cui viaggiava è stato sequestrato mentre per lui sono scattati gli arresti domiciliari.